Il tema probabilmente più drammatico in questa terra di sempre è la questione della sanità. È una vera e propria emergenza nazionale, ogni giorno ci vengono purtroppo raccontati dati allarmanti, la migrazione sanitaria continua ad aumentare, i reparti chiusi, non si danno risposte celeri, liste d'attesa che continuano ad aumentare drammaticamente, è uno stato di emergenza nazionale. E continuare con una narrazione che dice il contrario solo per avere qualche like su Facebook da parte del commissario alla sanità e presidente di regione è ancora più drammatico. Noi chiediamo risposte serie, anzi abbiamo offerto anche una mano, abbiamo dato una mano, abbiamo chiesto di poter dare una mano in Consiglio regionale, portare una riforma della sanità, portare delle riforme strutturali e in quel caso il Partito Democratico si può caricare la responsabilità di un impegno per migliorare le cose, ma così com'è non va e serve un'alternativa e serve soprattutto coraggio per cambiare le cose perché purtroppo i dati ci dicono che la Calabria sta affossando da tutti i punti di vista.